Stereo 5 TV presenta l'almanacco del giorno in studio Luigi Comentale Accogliamo la Pasqua, buongiorno, auguri a tutti voi. Oggi il 31 marzo San Beniamino Martire, a Roma il sole è sorto alle 5.54 e tramonta alle 18.34 ora solare, a Milano alle 6.05 e tramonta alle 18.49. Luna che tramonta alle 3.37 per levarsi alle 12.45 apogeo lunare alle ore 12, distanza chilometri 404.949. Proverbio di oggi, chi è sai, charla, spesso falla. Andiamo ad accadere nel 1878, Thomas Alva Edison rende pubblica l'invenzione del fonografo. In questo giorno del 1889 viene inaugurata a Parigi la Torre Eiffel. Nel 1935 il re Vittorio Marelle III inaugura la città universitaria di Roma, la Sapienza. Nel 49 Karl Abarth fonda la società Abarth & Company. L'Unione Sovietica lancia Luna 10 nel 1966 il primo vedevolo spaziale a entrare nell'orbita lunare. Nel 1994 Nature riferisce il ritrovamento in Etiopia del primo teschio completo di una specie di omilide estinta. Nel 2005 il principe Alberto assume la reggenza succedendo al padre malato Ranieri III di Monaco che si spegnerà il successivo 6 aprile. Uno sguardo ai nati di oggi nel 1596 Cartesio, filosofo, nel 1934 Carlo Rubbia fisico, nel 1884 Tina Pica attrice, nel 64 Isabella Ferriari attrice. Per lo sport oggi nel 1939 nasceva Karl-Heinz Schnellinger, ex calciatore. Frase aforisma, ogni uomo mente ma dategli una maschera e sarà sincero. Lo diceva Oscar Wilde. È tutto, un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati, appuntamento a domani. Ovviamente un saluto per voi tutti. L'Almanacco torna domani.